sapete quanti sono i classici del cinema asiatico mai arrivati in italia tantissimi troppi per contarli non sarebbe bello se tutti i cinefili italiani potessero avere nelle loro collezioni un video una collana di prestigio dedicata ai grandi film dell'oriente per rendere giustizia questa cinematografia così vasta e così importante eppure così poco conosciuta e valorizzata nel nostro paese è quella di creare un punto di riferimento al recupero di queste grandi opere se volete aiutarci a realizzare questo obiettivo facciamo sì che la legends collection diventi una realtà il nostro progetto appunto a realizzare edizioni da collezione con i migliori master e restauri video disponibili e tracce audio originali finalmente corredate da sottotitoli accurati e contenuti extra proprietari attraverso l'apposita campagna crowdfunding attiva su eppera potrete sostenere con una donazione la creazione di queste etichette e ai più generosi sarà riservato un reward d'eccezione un esclusivo blu ray in edizione speciale che rappresenterà una sorta di numero zero del nostro catalogo un titolo a sorpresa ancora inedito in italia che sarà disponibile solo ed esclusivamente attraverso la raccolta fondi anch'io sostengo legends collection tutte le informazioni e dettagli sulla nostra campagna sono disponibili sul portale appela e sui nostri canali social ufficiali facebook ed instagram questa è una chance imperdibile per dare inizio ad una collezione unica tutta italiana creata da appassionati per appassionati sono fabio di il seme della follia e anch'io sostengo legends collection anch'io sostengo legends collection e anch'io sostengo legends collection e anch'io sostengo legends collection per me il cinema non è solo un lavoro ma anche una passione molto seria e anche per questo non posso che sostenere legends collection supportate il nostro progetto aiutateci a rendere possibile questa preziosa iniziativa noi ci impegneremo a valorizzare il cinema orientale